Io fondamentalmente sono un consulente, definirei anche un rompiballe, ma fondamentalmente sono un provocatorio e la provocazione vuole essere propositiva, nel senso di dare quello spunto al mio interlocutore per poter poi avere un confronto, un confronto che porta alla crescita ed è per questo che a fronte di tutti gli articoli, mesi per mese, di tutti gli argomenti che sono venuti fuori all'interno del Business Continuity Forum, ho cercato di rispondere, a volte trasferendo la mia esperienza, ma il più delle volte ovviamente trasferendo punti di provocazione per far crescere, prima di tutto me stesso, professionalmente, poi per far crescere anche ovviamente gli interlocutori, quindi creare un dibattito con una crescita da ambo le parti per poi dare ovviamente valore aggiunto a chi? All'utente finale che è l'azienda. Quindi questa è stata ovviamente la mia voglia e continuerà ad essere la mia voglia di dare il mio contributo al forum, ovviamente il contributo che si dà nel tempo, non voglio dire perso, però a fine giornata lavorativa ragionando, meditando, valutando quello che ovviamente è l'argomento del mezzo.